Il rinforzo di lusso per l'audace Cerignola arriva da potenza. Non è un gioco di parole legato all'allenatore del club ofantino, ma il ritratto di Gianluca Sansone, ultimo colpo del patron gialloblu Nicola Grieco per rinforzare una squadra che dopo aver vinto le prime due partite nel girone H di Serie D ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro giornate di campionato, con le ultime due trasferte coincise con altrettanti KO. Annardò nel sesto turno a Taranto in Coppa. La trattativa con l'attaccante classe 1987, avviata da qualche settimana, è approdata a conclusione. Sansone, ex attaccante tra le altre di Bari, Bologna, Sassuolo, miglior stagione in carriera in Emilia nella B 2011-2012 con 20 reti e Frosinone, oltre che di Torino e Sampdoria in Serie A, porta in dote nell'attacco del Cerignola a segno sin cui tre volte, peggio hanno fatto solo Francavilla e Tim Altamura a tre. Un bottino imponente, ben 73 reti segnate in 360 partite giocate tra i professionisti. Nella scorsa stagione Sansone ha vissuto l'esperienza a zera a Baku e ora si rilancerà in Italia in una categoria frequentata per l'ultima volta nella stagione 2006-2007 con la maglia del Pescina. Allora le reti furono 8 in 31 partite. Non sarà però a disposizione nella sfida di domenica al Monterisi contro il Bitonto, seconda forza del campionato alla pari con Gelbison, Brindisi e Fasano a quota 12 punti. Si attendono squadre schierate a specchio con il 3-5-2. Potenza dovrebbe affidarsi a Dicecco in regia e al duo Marotta lo Iodice in avanti, mentre Roberto Taurino, sosponda Neroverde, dovrà valutare le condizioni di Lattanzio e Biason, acciaccati dopo la vittoria interna sul Gravina dello scorso turno.